e siamo tornati in diretta per primo cittadino questa sera dedicheremo la puntata al comune di fano insieme al sindaco massimo serie buonasera sindaco e bentornato buonasera buonasera a tutti i telespettatori i numeri per intervenire in diretta 0721 86 14 33 oppure 338 49 68 250 per inviarci messaggi anche con whatsapp sindaco partiamo subito dal covid perché oggi c'è stato un incontro tra regioni e governo sulle nuove misure anticontagio tra le ipotesi rientrano le elezioni a distanza per gli alunni delle scuole superiori stop agite scolastiche ma anche chiusura a mezzanotte per pub ristoranti e bar divieto di sosta davanti ai locali dopo le 21 altre ipotesi al vaglio l'uso delle mascherine in casa in presenza di persone non conviventi stop agli sport di contatto come il calcetto o il basket a livello maturiale ma consentirli a livello dilettantistico per le società che abbiano adottato dei protocolli per limitare questi contagi e poi tante altre misure ad esempio i comuni dovranno incentivare anche lo smart working le scuole lo stesso degli orari sfalzati anche per cercare di avere meno studenti all'interno degli autobus che cosa pensa di tutte queste possibili misure io penso che alcune regole siano importanti ed è importante che noi le rispettiamo perché ci ricordiamo tutti le conseguenze della situazione che abbiamo vissuto con il lockdown di qualche mese fa è stato un momento difficilissimo sia per le singole persone ma per il sistema italia e allora certi provvedimenti sono necessari bisogna mantenere una comunità una città viva in sicurezza quindi ecco questo per consentire fare questo importante che noi rispettiamo quelle regole essenziali perché se il contagio riprende vigore con numeri importanti poi i rischi sono ben altri allora come devo dire nel nostro territorio nostra città al momento la questione la situazione è sotto controllo devo dire c'è un'organizzazione che sta funzionando anche il rispetto pur non essendo al cento per cento però tutto sommato rispetto anche a periodi passati c'è una maggiore attenzione mi rivolgo soprattutto anche ai giovani che sono forse quelli più disattenti nel rispetto delle regole lo fanno molto bene nelle circostanze a scuola ma poi quando si trovano magari all'uscita all'ingresso o nella cosiddetta movida dice più disattenzione allora l'invito che faccio a tutti di essere rispettosi ma dico anche che noi controlleremo e lo faremo anche in quei luoghi dove magari ci sono maggior rischio quindi magari anche con dei controlli non senza preavviso proprio per far sì che ci sia questo questo rispetto è nell'interesse di tutti questo se siamo gravi abbiamo visto anche nelle altre città che sono già state elevate delle multe sono stati chiusi dei locali nel nostro territorio nel comune di fano no le chiusure locali no devo dire anche questi sono abbastanza rispettosi quindi situazioni al limite non ci sono state bene andiamo avanti perché domani o al massimo mercoledì insomma verrà annunciata la giunta regionale si attende però di sapere anche il rimpasto della giunta comunale doveva essere annunciato la scorsa settimana poi però lei è stato fuori fano e quindi ha avuto altri impegni abbiamo la data intanto aspettavamo che arrivasse quella regionale che è più ha chiesto una gestazione più lunga però già detto che non va a influire su quella comunale no 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 la mia era una battuta ancora qualche giorno ma non perché ci siano tensioni ci siano problematiche particolari perché mi piace visto che è anche una ripartenza mi piace farlo con la condivisione di tutti delle persone quindi anche perché subito dopo le elezioni si fa soltanto quello quando si è in corso come in questo caso gli impegni rimangono quelli quotidiani l'attività amministrativa gli incontri anche fuori sede per cui anche incontrare le persone richiede del tempo però ecco non ci sono tensioni ci sono ragioni particolari a breve non annuncio anticipo nulla perché poi rischerebbe di dare anche informazioni distorte però ecco non sarà nulla di definitivo sì ancora siamo anche qualche incontro nelle prossime ore nei prossimi giorni però insomma brevissimo ci siamo abbiamo sentito anche nel telegiornale di questa sera che mercoledì passerà il giro d'italia ma anche il giro e quindi con le bici elettriche diverse scuole saranno chiuse abbiamo già informato i nostri telespettatori ci hanno scritto diversi genitori perché ad esempio per la montessori prima aperta poi chiusa poi aperta poi chiusa e scrivono ma è una decisione che ha preso il sindaco che cosa è successo è sempre colpa del sindaco in una città qualsiasi cosa accade è sempre colpa del sindaco a parte le battute non è successo nulla semplicemente ovviamente queste decisioni non vengono prese a livello cittadino il giro d'italia coinvolge tutto il territorio parte del territorio provinciale quindi i giorni scorsi c'è stata una riunione convocata dal prefetto con tutti i referenti delle città coinvolte e la decisione è stata quella di bloccare le strade e poiché qui non si tratta soltanto dell'attraversamento del passaggio del giro d'italia ma c'è anche del passaggio delle bike quindi la chiusura sarà dalle 11 intorno fino alle 14 e 30 quando dovrebbe passare il momento cruciale del giro d'italia quindi col blocco delle strade c'è la necessità di chiudere quelle scuole coinvolte nel percorso le dirigenze scolastiche sono state tutte informate io non ho potuto emanare l'ordinanza finché non fosse arrivata l'ordinanza del prefetto per la chiusura delle scuole quindi solo questa la ragione del magari quando non c'è un atto scritto comunicato possono esserci dei frantendimenti però abbiamo avvertito tutte le dirigenze e abbiamo inviato anche dei comunicati stampa però ecco domani mattina tutti avranno comunque l'informazione precisa per mercoledì ci stanno arrivando tantissimi messaggi ma partiamo dai lavori pubblici le scogliere motopontone è arrivato quindi riparto nei lavori anche per concludere l'ultimo tratto che era già stato programmato però c'è scritto oggi il comitato alle brecce che cosa dice a sassonia sono appunto ricominciati questi lavori ma i cittadini della zona ci ha fatto sapere nello specifico mauro ginesi vogliono mantenere il pennello perché ancora serve per la protezione delle abitazioni su vie del bersaglio perché pare che sia prevista la rimozione di questo pennello di fronte a viale ruggeri abbiamo ecco qua ci ha inviato anche dei degli articoli di giornale ad esempio questo del collega massimo foghetti ha sottolineato mauro le frasi appunto più importanti e che annunciano questa rimozione e dice non è un fatto estetico ma serve per garantire una certa sicurezza almeno fino a quando non vengono rialzate le scogliere all'altezza dell'ex pista dei gocarts che cosa possiamo rispondere? rispondiamo a chi ha perfettamente ragione dopo le notizie prendono un corso senza verificare le fonti questo è un articolo preciso allora la situazione è questa intanto vorrei ricordare che in questa città in questi anni abbiamo realizzato per la difesa della costa e tantissimi interventi tra quelli già realizzate che si stanno realizzando e quelli che si realizzeranno per una quantità di 8 milioni di euro non si era mai visto e poi ci dimentichiamo sempre queste cose vanno ricordate giustamente e vanno riconosciuti anche questi meriti per quello che riguarda le scogliere di stalli di sassonia e adesso sono ripartite per le ultime due previste dal progetto e avevamo bloccato i lavori perché ovviamente iniziava l'estate e non si possono realizzare scogliere durante la stagione balneare il pennello non verrà spostato finché non saranno ultimate tutti i lavori compreso il rialzamento delle scogliere del bersaglio quindi signor Ginesi ha perfettamente ragione lo tranquillizzo non c'è questo pericolo l'obiettivo anche quello di rialzare le scogliere utilizzando i due ribassi dei lavori svolti anche perché effettivamente stanno un po' erodendo la parte dell'ex pista d'Eco Card non vicino alle abitazioni però quindi è necessario svolgere anche quell'intervento in ogni caso la scelta del pennello non è che se noi ci alziamo la mattina e diciamo adesso lo togliamo sta nel progetto ed è il risultato della via e la valutazione di impatto ambientale perché quello verrà tolto al termine di tutti i lavori per un tema primo qualità delle acque perché quello ristagna e quindi creerebbe altri problemi e due proprio per le dinamiche delle correnti quindi gli ingegneri che hanno progettato e hanno fatto le verifiche di impatto ambientale hanno definito questo al termine va tolto ma nell'interesse di tutti per la qualità delle acque per evitare che si ristagni il tutto e vada a deformare e a non dico a compromettere ma a peggiorare la situazione visto gli interventi che abbiamo fatto esatto e chiedono anche che fine abbiano fatto i 950 mila euro per la strada delle barche sì sono un milione e mezzo perché lì è una parte per Viale Ruggeri e una parte per l'attraversamento dell'ex pista di Gocari noi siamo pronti il progetto esecutivo è già pronto è solo per essere appaltato le risorse erano destinate ma tra regione e ministero quando ci sono due enti sovracomunali che devono dialogare perché avevano accantonato quelle risorse per esigenze loro e adesso c'era stato un piccolo problema di dialogo di passaggio fra i due comunque noi lo attendiamo siamo pronti quello che dobbiamo fare abbiamo fatto ripeto quando si è all'esecutivo si è pronti per appaltarlo quindi appena ci arriva la comunicazione del trasferimento definitivo lo appalteremo abbiamo una telefonata per lei sentiamo chi c'è in linea buonasera 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 prego sono De Angelis volevo sapere un'informazione siccome sono passati quasi cinque anni dall'esproprio in via Chiaruccia e ancora non abbiamo visto un soldo tra l'altro sono stati depositati presso la banca la cassa depositi prestiti la somma che ci devono dare in forma di 6 euro al metro quando la nostra zona è tutta reddificabile lei lo sa come tutto il suo consiglio e i suoi è sempre contrastato il pagamento della somma che ci deve l'autostrada vorrei sapere perché io penso perché se pagate se ci pagate onestamente come quello che abbiamo pagato dovremmo avere i soldi che ci dovete si riferisce alle opere compensative esatto sì e allora ovviamente non siamo noi che paghiamo è società autostrade società autostrade è anche abbastanza veloce lì c'era non c'era un accordo sul valore dell'entità del del pagamento come giustamente diceva De Angelis proprio in questi giorni ho chiesto di fare un po' il punto della situazione con gli uffici competenti proprio perché queste cose vanno definite nel più breve tempo possibile ormai sono diversi anni penso sia rimasta solo quell'area lì che non abbia avuto la conclusione per quello che riguarda gli espropri per cui mi prendo l'impegno non dico in settimana ma se non è entro questa settimana sicuramente all'inizio della prossima perché ne ho parlato anche con alcuni assessori proprio per fare il punto e sollecitare eventualmente anche società autostrade ci chiedono informazioni sulle rotatorie via Campanella e via Fanella con via Sandro Pertini sì quindi questa qua di fronte è sostanzialmente cosa ci chiedono intanto qua a Rosciano che deve essere fatta questa rotatoria ah sì sì ecco ok anche lì il progetto ormai c'è sono in realtà due rotatori l'abbiamo presentato anche qui a Fano TV dovevano arrivare alcuni pareri perché al termine delle progettazioni bisogna raccogliere anche alcuni pareri e poi va con deve essere appaltata quindi ormai siamo non dico in dirittura d'arrivo ma ormai il percorso è avviviato e quello porterà una bella soluzione al problema del traffico già ora è migliorata crea qualche disagio però non ci sono stati più incidenti con le due rotatorie ovviamente manterranno la sicurezza ma agevoleranno anche l'uscita e l'ingresso per il quartiere di Rosciano se ne parla per il prossimo anno ormai? sì 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 questo sì ok invece per quella di via Fanella avevamo intervistato anche l'assessore Fabio Latonelli lì c'erano stati dei problemi con la ditta e quindi i lavori sono rimasti un po' indietro allora dovremo avere un'altra telefonata per lei sindaco buonasera 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 prego buonasera mi chiamo buonasera sindaco mi chiamo Claudio Pergolesi e telefono dalla zona Tre Ponti no volevo chiedere se è possibile insieme magari accortarci dare una pulita alla scarpata del canale Albani dal ponte dell'autostrada al ponte della superstrada perché ci sono già tutte queste robine e questi alberi del paradiso che stanno invadendo i lampioni anche mezza carreggiata di via Papiria insomma di via Papiria magari se dare una pulita pure almeno almeno fare la scarpata un paio di metri da liberare la carreggiata perché una volta c'erano degli anziani che pulivano il canale che c'erano degli orti pulivano il canale e dalla giunta Trappoli che doveva fare ci doveva fare la pista ciclabile dai passeggi alla Snamprogetti ma da quella volta sono arrivati i video hanno mandato via queste persone il canale Albani è rimasto almeno il tratto dal ponte dell'autostrada al ponte della superstrada e poi un'altra cosa noi abbiamo un camminamento una scalinata che dal ponte porta la chiesa abbiamo due scalinate una dalla parte di qua e una dalla parte di là del ponte e il povero Don Achille le aveva fatte installare quando ha fatto il ponte da quella volta non sono state mai pulite le abbiamo sempre pulite per gli anzianotti che adesso non ce la fanno più per dare una pulita per dare un coro oppure ci accordiamo magari lei ci paga l'affitto io prendo un scavatore con il trincio magari lei mi dà le autorizzazioni lo faccio io insomma abbiamo capito quale è il problema ma è di competenza del comune oppure di Enel Power? Allora il canale in parte di competenza di Enel Enel Power col quale devo dire abbiamo un ottimo rapporto c'è stata sempre collaborazione avete visto anche negli ultimi due anni sono stati fatti molti interventi di riqualificazione di pulizia negli argini quindi onestamente si è fatto proprio un bel lavoro e quindi sotto questo aspetto non possiamo lamentarci il tratto a cui fa riferimento dovrebbe essere più di competenza nostra quello al lato della strada lì effettivamente c'è la presenza di alcuni orti e coloro che li gestivano ovviamente mantenevano anche l'attenzione e la cura della parete del canale che è la parte diciamo più lontana dal canale verso la strada adesso faccio fare una verifica perché noi ovviamente il piano del verde lo affidiamo in parte la gran parte ad Ase e una parte quelli stradali le manutenzioni del verde stradale sono alcune ditte del territorio quindi adesso faccio la verifica per quel tratto se rientra in una di quegli interventi che vengono fatti anche in questo periodo oppure no ci stanno infatti arrivando tante segnalazioni anche per le isole ecologiche ad esempio quella in via trave perché è a ridosso della strada le auto sfrecciano altre che ci dicono per quanto riguarda i cassonetti delle potature perché non è più possibile tenerli aperti però ecco sono tutte segnalazioni eventualmente che dovremmo rigirare ad Ase perché la competenza adesso è dell'azienda allora sindaco abbiamo tanti tanti messaggi per gli asfalti questo è buon segnale non è una nuvita sono iniziati a Sant'Orso e anche qui ne abbiamo dato notizie insieme all'assessore Tonelli però attendono intanto delle risposte residenti che abbiamo intervistato della strada Cerreto e località Cannelle così come quelli di strada Ferriano verso Cerbara sono due strade davvero disastrate ma devo dire che l'altro giorno ho percorso anche quella che porta il Cannelle Melampo davvero si rischia di fare dei danni proprio alla vettura perciò queste tre strade sono in programma? adesso dobbiamo appaltare una partita di asfaltature che non prevedono queste strade qua ovviamente queste sono messe male hanno bisogno di un intervento noi abbiamo ovviamente avendo 400 oltre 400 chilometri di strade in sei anni ne abbiamo asfaltate 110 chilometri e penso che nella storia di questa città in sei anni non sia mai capitato che si asfaltassero così tante strade e abbiamo usato anche un metodo nella scelta delle strade la pericolosità la frequenza ovviamente quelle che hanno un maggior accesso di auto ovviamente hanno avuto una precedenza quindi c'è una abbiamo una graduatoria se così possiamo dire e annualmente con gli interventi che facciamo queste stanno nell'elenco degli interventi che dobbiamo fare non stanno in quello immediato vediamo poi quando facciamo gli interventi abbiamo anche delle economie che noi riutilizziamo adesso i prossimi giorni farò un punto anche con l'assessore questi giorni è un problema familiare personale quindi fuori sede però insomma abbiamo già in previsione una riunione sotto questo aspetto per fare un piano e poterlo comunicare in modo tale che i cittadini sanno che quella strada magari non può essere asfaltata nell'arco di un anno però sanno che interverremo per lo meno a tutire il disagio in attesa dell'intervento ad esempio ci hanno scritto per via Tombaccia per via Lebozia Fano dove l'asfalto è ceduto in altri punti quando sono così tante però ovviamente è umana tutti si rendono conto che è impossibile intervenire in tutte le strade poi è chiaro ognuno vorrebbe la strada più vicina alle proprie esigenze noi cerchiamo di andare incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini anche questa qua di via Campanella perché porta dei centri commerciali importanti sui percorsi via Campanella sì poi quella è anche molto trafficata ma pensate solo quel tratto se noi asfaltarsi su quella strada lì avremmo già consumato il bonus del milione destinato non dico del milione ma poco ci manca destinato però tutto il tratto lei dice è rovinato un pezzettino a ridosso della rotatoria però quando si fa va fatto bene perché è inutile fare dei pezzi poi lasciarne degli altri chiedono anche l'asfalto e dei marciapiedi in via Le Battisti giusto per rimanere in tema di asfalti dovremmo avere una telefonata per lei buonasera buonasera mi chiamo Anna Maria Giuliani vorrei parlare col sindaco a proposito dell'immondezza mia figlia è stata a tre anni non residente ma domiciliata in una casa di mia proprietà che nel frattempo è stata affittata gli è arrivata una multa per tre anni di 600 e passa euro le ripeto l'appartamento non arriva a 90 metri quadrati e gli è stato calcolato praticamente c'ha i terrassi scoperti lavanderie che sono bugigattoli garage aperto di 200 metri quadrati gli è stato calcolato sono andata giù a chiedere spiecazioni non mi hanno saputo dire niente ho guardato anche la legge e mi dice che l'immondezza si paga sull'80% io ho il catastro che l'appartamento all'ordo è di 91 metri quadrati perché me l'hanno calcolato così questo è un problema di cui si sta parlando adesso non lo so rispondere perché ovviamente queste cose non le fa il sindaco ci sono in questo caso gli accertamenti li fa una società il concessionario dei tributi però ci sono i nostri uffici che poi verificano perché poi possono esserci delle anomalie possono esserci degli errori e vanno verificati e si correggono quando si accertano per cui non ho capito bene il nome magari dopo se mi lasciate il riferimento della signora e il numero di telefono mi prendo l'impegno di farla ricontattare insomma di verificare e intanto domani mattina ci sarà un incontro proprio su queste maxi cartelle sì allora anche su questo bisogna dire come stanno le cose perché sembra che uno si alza la mattina che faccia queste cose poi per far cassa per l'amministrazione comunale questo è un aspetto che va spiegato le risorse che vengono incassate dagli accertamenti a cui si fa riferimento non vanno nel bilancio ordinario dell'amministrazione comunale per farci le varie attività per poterli spendere quindi non c'è un interesse materiale dell'amministrazione ad aumentare gli incassi di questo tipo perché come ripeto non vanno nel bilancio ordinario ma vanno ridestribuite nella spesa quindi nell'incasso della gestione in questo caso dei rifiuti per abbassare quindi vanno a beneficio di tutta l'utenza questo ecco va chiarito quindi per abbassare le tasse positivamente come funziona la Tari funziona che il costo del servizio della raccolta dei rifiuti va ridistribuito per gli utenti se si spende 100 quel 100 va distribuito per i 100 cittadini se si spende 90 il 90 va distribuito per i 100 cittadini quindi l'intento non è quello di far cassa no ma non lo fai quelli che si aggiungono cosiddetti dall'evasione o da adesso uno pensa che voglia perché ci possono essere degli errori c'è stato un calcolo sbagliato quelle maggiori entrate vanno a riequilibrare vanno in quell'incasso e quindi non è più 90 che va chiesto ma diventa 97 perché c'è stato e quel 97 va ridistribuito per i cittadini questo insomma per non so se mi sono spiegato bene volevo farlo in parole semplici poi magari uno complica la spiegazione però nei giorni scorsi ha precisato che nel caso in cui ci dovessero essere delle anomalie anomalie delle bollette degli accertamenti che hanno portato e ricalcolato anche le varie metrature esatto allora anche su questo quando queste anomalie sono numerosissime c'è un problema quando c'è un problema di calcolo probabilmente non so cosa possa essere successo quando queste non sono tantissime qui parliamo mi hanno spiegato dagli uffici che si pratta di 24 casi questi vanno esaminati perché possono esserci errori perché chi fa l'accertamento magari non ha avuto modo di fare il sopralluogo con dei referenti della dita quindi magari ha interpretato in modo sbagliato o in modo giusto quindi noi domani proprio per capire qual è la situazione reale abbiamo convocato tutti i referenti delle varie associazioni di categoria insieme al concessionario insieme ai dirigenti dell'ufficio tributi dell'amministrazione comunale insieme all'assessore competente per fare un po' la verifica nello specifico perché poi ci sono degli errori si correggono si modificano però vorrei anche spiegare che queste cose non è che nascono all'improvviso ripeto sembra che uno si alzi la mattina voglia fare questi provvedimenti questi partono da molto lontano e avvengono in tutte le città perché guardavo oggi proprio la rassegna stampa Deo Pesaro tanto guardiamo sempre in città vicino cartelle per 5 milioni inviate che stanno partendo quindi non sono ancora arrivate i pesaresi per quello che riguarda Fano qui è un processo che parte addirittura nel 2004 diciamo nel 2020 poi dove cominciano questo percorso di accertamenti poi con nel 2011 poi c'è stato tutto un percorso insieme alla società la Duomo che ha poi avuto una serie di problemi quindi sono rimasti bloccati per alcuni anni ma quegli accertamenti quelle che erano state evidenziate già la Duomo non sono state cestinate anche perché non si possono fare qualcuno risponderebbe poi in prima persona poi nel 2011 c'era stata la nascita di Aset entrate che era una partecipazione mista con un concessionario e con Aset per arrivare poi ai giorni nostri con la nuova concessionaria che non è che viene scelta in modo arbitrario da noi ma c'è una gara un bando e chi vince diventa concessionario dell'amministrazione quindi tornando a noi domani mattina abbiamo questo incontro faremo il punto della situazione le verifiche dove ci sono degli errori verranno ricorretti e comunque ci sarà devo anche sottolineare che con i referenti a Monte c'erano stati che non ho fatto io ma che avevano fatto gli uffici e la concessionaria con i vari rappresentanti proprio perché avevano già spiegato qui parliamo di due tre anni fa per cui qui siamo proprio agli ultimi questo è un processo che ripeto è partito da tempo è chiaro poi arriva anche in un momento particolare di difficoltà c'è tutto un insieme di cose che rendono e fanno più scalpore però ecco quelli eclatanti vanno verificati caso per caso abbiamo un'altra telefonata per lei sentiamo chi c'è in linea buonasera ci sente? Sì buonasera buonasera guarda sono la signora Rosa volevo chiedere un'informazione la strada e la località camminate è disastrosa passano i pulmini quattro volte al giorno e si arrabbiano non si può fare niente poi magari vengono a chiudere le buche ne chiudono una ne lasciano dieci sì quale strada si riferisce? quella là dove è stato il ponte in località camminate sì sì la conosco benissimo ci vengono anche spesso è disastrosa sì no lo so cioè lo so a quale tratto si riferisce in particolare quella che va che poi porta su al cimitero quella strada ah quella il tratto ok ok quella piccolina diciamo quella piccolina sì che dal ponte che prosegue che arriva sulle camminate che lì passa il pulmino quattro volte al giorno e anche quelli del pulmino si arrabbiano perché è tutto buco è una cosa disastrosa grazie sì 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 lì abbiamo fatto l'intervento del ponte che aveva avuto dei problemi abbiamo fatto un intervento importante perché camminate abbiamo fatto diversi interventi in questi anni dal cimitero al ponte e siamo intervenuti anche su alcune strade poi alcune strade hanno un problema dove c'è terreno franoso purtroppo non è in questo caso specifico ma alcune strade si rovinano si muovono si muove l'asfalto ed è un problema riuscire sempre a mantenere lo stato in ottimo stato quelle strade è anche impossibile di asfaltare ogni volta adesso non è il caso specifico riusciamo sindaco magari fra un mese quando lei ritorna ad avere una lista se così vogliamo dire perché anche qua ci stanno arrivando tantissime strade ci proviamo perché poi ovviamente non abbiamo risorse infinite che dobbiamo fare delle scelte e quando si fanno le scelte qualcuno è contento e qualcuno dirà quindi chi è contento dirà che siamo bravi e chi è meno contento dirà che non siamo bravi sul biodigestore vorrebbero delle informazioni ci sono delle novitali ci sono quelle delle novele infinite allora io intanto dico questo il digestore è un impianto che va realizzato chi dice il contrario non fa l'interesse della collettività fa parte dell'economia circolare tutti coloro che parlano di ambiente riconoscono che è un impianto importante per il territorio non penso che gli altri abbiano la nero al naso guarda caso sono tutti dal rubicone in su e che noi guardiamo sempre come esempi di buona amministrazione e spendiamo soldi per portare l'umido in queste strutture noi per esempio da Fano lo portiamo a Ravenna e paghiamo paghiamo poi pagano i cittadini rientra in quel discorso della tale che facevamo prima quindi su questo io non ho dubbi e non ho trovato ancora una persona se non quelle che lo fanno in modo strumentale perché possono dire il contrario il problema dove va fatto anzi dico un'altra cosa dal mio punto di vista deve essere realizzato con la copartecipazione delle due società di gestione della nostra provincia che sono Aset e Marchi Multiservizi e io penso che si vada in questa direzione al di là delle prese di posizione che ci sono state anche in questi ultimi giorni delle fughe in avanti della società Marchi Multiservizi però ci deve essere anche un accordo politico nelle prossime ore farò anche degli incontri con dei colleghi che mi hanno riaffermato la volontà andare in questa direzione perché poi sono le proprietà che parlano e che decidono a meno che vogliono fare scelte diverse allora poi su quelle ci confronteremo e al limite litigheremo poi l'altro tema è l'ubicazione io dico che questa vada realizzata nel posto più idoneo del nostro territorio provinciale che non è che c'è una bandierina che dice la facciamo qua vinco io vinci tu no dobbiamo farlo tenendo conto di quelli che sono gli impatti ambientali quelle che sono le caratteristiche quelle che sono i costi un insieme di cose come farebbero dei buoni amministratori privati nel realizzare un impianto di questo tipo quindi va fatto un'analisi noi abbiamo fatto è stato realizzato noi abbiamo fatto degli studi e sono emerse delle cose dei costi allora se lo facciamo dove c'è questa tazza e lo facciamo 5 km più in là ci sono 10 milioni di differenza viva Dio secondo me c'è un argomento che ti porta a dire forse è meglio farlo nell'altro posto e Falcinito se non ricordo male era il luogo in cui in quella ubicazione per quello che riguarda il comune di Fano ma io non mi straccio le veste per farlo per forza qua possiamo farlo anche in un altro comune anche perché non ci sono vantaggi materiali diversi anche su questo perché ci fosse un vantaggio materiale fare in un comune rispetto ad un altro e allora uno si fa questa considerazione il vantaggio è quello di dare un servizio al cittadino che porti dei risparmi e l'altro vantaggio è di essere soci perché essere soci di quella società significa avere comunque dei margini perché poi c'è una società quando gestisce anche degli utili che vengono ripartiti ma allo stesso tempo significa anche calmerare il prezzo perché altrimenti tende a rialzare noi nell'arco di un anno abbiamo avuto un incremento di spese molto significative si è passate dai 55 euro mi sembra agli 80 85 ma tende ad aumentare perché si è obbligati a portarli in questi impianti gli impianti l'offerta non risponde non è capace di rispondere alla domanda e quando l'economia ci insegna in questi casi che porta a rialzare il prezzo e il mercato lo fa chi ha queste strutture Sindaco velocemente chiedo da camperista è normale che il parcheggio camper di Viale Kennedy sia in mano a zingari e delinquenti non è normale ma lì c'è già finanziato c'è un progetto penso sia finito non ci metto la mano sul fuoco ma stavano lavorando su quel parcheggio e quello via risorgimento quindi sono già finanziati con le risorse del progetto IT quindi il signor ha ragione interverremo perché verrà ampliato lì dovremo asfaltare a proposito di asfalti lo dico ai telespettatori che ci stanno seguendo quella strada che fiancheggia il cimitero che arriva fino a Viale Kennedy molto utilizzata anche da persone in bicicletta ha bisogno di manutenzione sta nell'elenco delle strade che dobbiamo fare il prima possibile glielo ripeto spesso anche all'assessore quindi anche lì interverremo benissimo andiamo qualche istante in pubblicità e poi sindaco torneremo a leggere i tanti messaggi che ci stanno arrivando tra poco ci siamo siamo di nuovo in diretta sindaco ci stanno arrivando decine e decine di messaggi non può neanche immaginare molti sulle strade però chiedono anche tante altre informazioni ci segnalano che è diventato un cancello ai passeggi in particolare verso il Ponte Rosso poi nella curva del cavalcavia della stazione vanno molto forte quindi se si può fare qualcosa per farli rallentare residenti chiedono di mettere in sicurezza ciclisti e pedoni lungo via l'epiceno il tratto è percorso ogni giorno da bambini e ragazzi che vanno a scuola quindi chiedono anche di continuare la ciclabile che va dalla vecchia ferrovia al McDonald per capirci e di mettere un divieto di sosta fermata su entrambi lati della carreggiata ancora una posizione bizzarra del busto posizionato di fronte alla memo davanti alla dedica dello scrittore Luciano Anselmi quindi chiedono di trovare anche qui una posizione alternativa via l'Italia che sta morendo tagliano un albero però poi non vengono ripiantati quindi anche lì c'è un po' questo problema l'isola ecologica l'abbiamo detto una promessa va fatto due lampioni sulla pista ciclopedonale nei giardini di via del ponte nei pressi della scuola dell'infanzia e quindi le ricordano anche di mettere questi due pali dell'illuminazione pubblica chiedono intanti anche della piscina ci sono delle novità a che punto sono i lavori? un secondo scrivo in due pali se no mi discordo perché poi ci chiedono anche tante altre informazioni sulla caserma sì piscina sta andando avanti tutto e penso che fine 2021 il sindaco possa fare il tuffo per inaugurare il sindaco che si possa fare le prime vasche in quella bella struttura che sta crescendo giorno dopo giorno quindi insomma si era previsto ottobre 2021 dopo quando diciamo i mesi le date non si dispone che non mai però insomma ci siamo la caserma dei vigili del fuoco? siamo anche lì finalmente abbiamo fatto anche la gara d'appalto e adesso si saprà anche si sa se non si è formalizzata anche la nuova ditta quindi anche questa presto faremo la posa della prima pietra telecamere in Vianolfi in fondo a Vianolfi ancora non sono in funzione quindi chiedono se fosse possibile installarle anche in questo caso c'è una installata che abbiamo installato su richiesta dei residenti probabilmente forse chiedono quella per lo ZTL per le macchine che passano in via Mura San Gallo e lì hanno ragione abbiamo una telefonata per lei e le segnalo però che vorrebbero anche più rastregliere per le biciclette perché spesso si fa difficoltà a trovarle in particolare nel centro storico abbiamo una telefonata regia siamo pronti? ci siamo buonasera buonasera il sindaco è qua che l'ascolta il sindaco mi chiamo Tomassi dunque io la incontrai qualche anno fa alla pista Zengarini e le segnalai alcuni interventi veramente di spesa ridicola però su cose che saltano molto all'occhio sia dei cianesi che dei turisti allora questi sono quattro interventi i primi tre sono veramente di spesa minima insomma il primo è la fioriera di via Carducci via Carducci all'incrocio con il viale primo maggio lì ci sono due fioriere una è da anni completamente distrutta a presente il punto che le indico via Carducci e la via dell'Elisabeth ci sono due fioriere una è distrutta da anni non si capisce quali sia i problemi insomma a sostituirla poi io le segnalai già molto tempo fa la ringhiera del ponte della ferrovia di fianco Alexa Vilo Manfrini con quei pannelli rosa anche quelli sarà da 5-6 anni che sono distrutti bisognava richiamare la ditta che ha messo i pannelli e far sostituire quelli rossi quelli rovinati poi un'altra cosa che mi preme molto perché sono fanese quindi amante del mare la rosa dei venti della Sassonia lei ha mai fatto un giro in Sassonia a piedi con la bicicletta comprende di che cosa sto parlando si 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 ce la presento non ce la presento sì si si lei vada a vedere in quali condizioni è evidentemente è inutile ripristinarla come era prima si può fare una cosa molto semplice nel pavimento ed è così da tantissimi anni insomma abbiamo capito queste tre segnalazioni sindaco da che cosa vuole partire parto che una delle delicate che darò sarà il decoro perché questi sono sono piccoli particolari una cosa che aggiungerò perché si pensa sempre ma si insistere poi perdiamo magari il piccolo particolare che è una piccola cosa ma che all'occhio poi può guastare è come dire avere un bellissimo vestito poi c'è una macchia non gli diamo importanza svilisce tutta la bellezza magari dell'abito del vestito quindi sulla fioriera non ci sono giustificazioni tirate d'orecchie e si tiene per quello che riguarda perché mi ricordo perfettamente sulla è la ringhiera della ferrovia che va del ponte del Viale Nazario Sauro dove ecco lì c'è un problema che non è che le cose sono semplici vai su cambi in realtà lì bisogna parlare con ferrovie lì c'è un progetto in etinere che è quello del nuovo sottopasso c'è un intervento che devono fare anche sulla tratta quindi erano tutt'uno fra l'altro stiamo aspettando di appaltare anche i lavori della Darsena Borghese quella là cambierà il volto ovviamente il primo intervento riguarda dalla struttura storica fino al ponte poi il secondo pezzo è il sottopasso poi fino al faro il faro è più semplice quindi lo faremo in pochissimo tempo Rosa dei venti è vero l'ho sollecitata in più occasioni anche gli uffici però anche su quello c'è un ragionamento che noi stiamo facendo dovevamo uscire a febbraio o marzo con il concorso di idee per la riqualificazione del waterfront lungomare che riguarda proprio anche quell'area adesso dovremo farlo entro il mese di ottobre ma penso che non riusciremo perché anche su questo sono intasati c'è un lungo elenco di progetti che dobbiamo appaltare sono finanziati pronti poi ovviamente il lockdown non ci ha aiutato le persone non possono neanche riproverarle perché onestamente quello è un ufficio che sta funzionando lavora ma siamo stati bravi noi a portare molte cose e quindi inevitabilmente si intasano però la Rosa dei Venti qualifica una città di mare è una bella cosa e va ripristinata quindi il signore ha perfettamente ragione Signor Sindaco con questo freddo si possono accendere gli scaldamenti visto che dicono che ci vuole una sua delibera e in più possono anche fare delle multe effettivamente oggi è una giornata molto fredda è vero sì però ancora possiamo sopportarlo ci sono dei periodi in cui si iniziano ad accendere e ci sono dei periodi delle date quando bisogna spegnerli ovviamente questo per tutelare anche l'ambiente ridurre l'inquinamento non è ancora stata firmata la data per riaccendere il riscaldamento ovviamente andiamo con le temperature che si registrano scogliere di Ponte Sasso ci scrivono anche da laggiù Mastro Giacomi lo salutiamo anche un nostro telespettatore sono confermati un'anima critica vogliono sapere se sono confermate ma dovrebbero partire ci diceva Fanesi quindi anche lì di conseguenza anche perché sono stati affidati lavori alla stessa ditta per cui lavorerà poi sono quelli di Metauriglia che hanno avuto tutto il progetto e devono essere solo appaltati Terme di Carignano ci sono novità il comune può fare qualcosa? Novità vere non ce ne sono noi le Terme di Carignano si stanno molto a cuore ho visto che sono uscite anche degli articoli dove noi cercheremo di fare anche la nostra parte però la nostra parte non è risolutiva deve essere accompagnata dalla presenza di investitori privati ci sono state le manifestazioni di interesse però poi quando è il privato non è che ascolta le indicazioni del sindaco può raccogliere gli stimoli devo dire c'è anche un gruppo su Facebook ci sono delle persone molto attivo ma io sono contento perché questo aiuta a tenere alta l'attenzione a stimolare anche noi perché anche noi veniamo travolti sempre da tantissime problematiche quindi magari deviamo più da una parte o dall'altra quando sono gruppi di interesse che stimolano e mantengono sempre viva l'attenzione è anche un richiamo per noi ad accompagnarli vorrei sapere a cui parlano dalla zona di Via Reno a Carrara dovevano essere fatti dei parcheggi per i disabili qual è la situazione nel nostro comune perché adesso dovrebbero cambiare anche quell'indiale Gramsci nel centro storico c'è un progetto complessivo beh sono cose diverse assolutamente in questo caso il parcheggio per i disabili va queste strade periferiche sono su richiesta quindi qui non so se c'è stato un problema di una non risposta dell'ufficio competente è passato un anno ci dicono allora ecco probabilmente c'è stato qualcosa che non ha funzionato una disfunzione perché nel momento che è richiesto poi viene eseguito poi mi fate avere è una zona che io conosco bene perché abito da quelle parti quindi anzi visto che mi conoscerà sicuramente mi incrocia se me lo dice lo verifico con l'ufficio non vorrei che magari fosse rimasta in un cassetto si è fermata e sfuggita perché qui parliamo veramente di un particolare dove non ci sono fondamentalmente dei problemi i lavori allo stadio invece procedono? sì sono stati appaltati adesso quindi sono partiti penso domani l'assessore Fanesi faccia un sopralluogo proprio per indicare spiegare le cose che si stanno facendo buonasera sono a chiedere al sindaco se ha delle notizie sulla fibra ottica a Puntesasso guardi quella rientra nella progettazione che la regione aveva avviato e noi avevamo chiesto di essere messi in prima fascia adesso non ho gli ultimi aggiornamenti perché il mio collaboratore proprio quest'estate perché mi avevano sollecitato anche alcuni cittadini forse anche magari questo che ha telefonato per avere però non sono tempi brevissimi ci dicono anche via Bevano non è asfaltata dall'84 insomma tante tante vie problematiche però dovremo avere in linea anche qualcuno che vuole parlare direttamente con lei buonasera la sentiamo sentiamo che ha sulla cornetta ci sente il sindaco è qua che l'ascolta sì eccoci buonasera 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 signor sindaco e niente io volevo fare una segnalazione riguardo le transenne che sono davanti all'ex caserma militare dove è la torretta dove stava la sentinella grazie è un peccato perché sono anche pericolose stando lì abito vicino passo in continuazione si passa con le macchine le biciclette non lo so se c'è qualcosa di meglio come estetica da mettere qualcosa diversamente sì allora intanto la transenne è per evitare situazioni di pericolo perché quella ha avuto un danneggiamento probabilmente una macchina in retromarcia mentre faceva manovra ha urtato e quando c'è una sentenza di questo tipo va transennata e quella non è di competenza dell'amministrazione comunale perché non è di proprietà dell'amministrazione comunale fa parte del blocco della caserma e quindi è il demanio che deve intervenire noi siamo abbiamo provveduto a garantire la non accessibilità onde evitare che qualcuno si potesse fare male la ringrazio perché magari uno dopo non ci pensa per sollecitare un intervento del demanio perché poi si parla di un piccolo intervento e poter togliere anche le transenne a cui si fa riferimento ci scrive Gabriella da Lucrezia e segnala due problemi il primo perché percorrendo la via Flaminia al mattino c'è un tratto di strada Carrara con la cunita tutta piena di foglie quindi quando piove poi dovrebbe essere pulita perché si allaga tutta la carreggiata e poi al mattino presto è percorsa da persone con la bicicletta manca l'illuminazione quindi è un po' pericolosa beh allora in alcuni tratti c'è in altri come avviene nelle strade provinciali perché quella non è una strada comunale è una strada provinciale prima di sentire che c'è in linea dunque avevo un altro messaggio che volevo leggere pista ciclabile dalla Gimarra per andare in città sulla nazionale vera fatta? no ci abbiamo l'altra città ciclabile che è a servizio situazione però ciclabili sul stiamo lavorando su altre ciclabili intanto quelle immediate c'è quella di Viale Kennedy che verrà completamente rifatta dovremo progettare una ciclabile che vada anche verso la piscina la nuova piscina mi sono dimenticato prima di dirlo ovviamente queste sono tratte abbastanza lunghe anche un po' costosi poi vorremmo andare a proseguire con la progettazione del tratto Fiume Metauro Ponte Sasso su quella di Ponte Sasso Torrette si erano dovuti interrompere i lavori per l'arrivo dell'estate ho avuto anche tante polemiche critiche giuste da parte dei residenti di Ponte Sasso però vorrei spiegare che si fa un raffronto con quella di Marotta intanto la progettazione è la stessa anche a Marotta l'abbiamo fatta noi come Comune di Fano lì è stata semplicemente la progettazione e hanno appaltato e fatto i lavori nel tratto di Fano abbiamo fatto qualcosa in più siamo interrotti anche nei sottoservizi proprio per fare un intervento ben fatto per la raccolta delle acque quindi abbiamo aggiunto altre risorse ed è un lavoro più complicato quindi si è allungata nella tempistica per l'appalto si sono interrotti i lavori adesso riprenderanno e verranno ultimati dovremmo procedere con altri tratti esecutivi fra l'altro c'è un forte interesse anche per una questione di pericolosità per il tratto di Metauriglia quindi anche su quello io sono intenzionato a dare una priorità sulla progettazione anche perché sono benedetto recovery fund di cui tutti parlano però spero che il governo arrivi presto anche alla definizione di quelle risorse e destinarle ma sono altrettanto convinto che questi saranno fronti dove arriveranno risorse chi sarà pronto le accoglierà e noi ci stiamo attrezzando per fare questo sentiamo chi c'è in linea buonasera sei pronto? la sentiamo perfettamente buonasera dunque la domanda è molto semplice mio figlio fa uno sport agonistico atletica e io lo accompagno spesso a fare le gare regionali nei vari circuiti regionali di atletica e mi rendo conto che Fano forse al circuito di atletica più bello di tutta la regione però è inutilizzabile io sono un fanese acquisito ormai di 18 anni che sono qui il signore ci conoscevano molti anni non dico che sono ho sempre sentito parlare di questa necessità di rivedere l'impianto di atletica di Fano per fare eventi sportivi che a carattere regionale e non solo anche a carattere nazionale richiamerebbero molta 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 attenzione da parte della cittadinanza e incentiverebbero anche lo sport dell'atletica però rimaniamo sempre con un campo che è sempre solo per allenamenti e anche con spogliatoi proprio a dire pochi indecenti veramente indecenti e degli spalti buttati lì che prima o poi secondo me crollano volevo sapere com'era la situazione e se è prevista una riqualificazione della zona come è successo con la piscina certo sindaco sì allora intanto diamo una risposta a fine mese scade la presentazione per il bando sport periferie e noi ci candideremo proprio con la pista Zengarini perché la stessa pista ha bisogno di un intervento importante ed è un intervento di oltre mezzo milione di euro e quindi come è avvenuto per il circuito Marconi che l'abbiamo fatto proprio con un processo di questo tipo quindi è a fine mese entro il 31 vanno consegnati stanno lavorando sul progetto e quindi presenteremo questa richiesta di finanziamento sperando che vada a buon fine poi c'è il tema vero quella noi abbiamo la fortuna di avere un'area molto bella invidiata ed è uno dei centri veramente il centro Italia sicuramente più apprezzati con un potenziale importante in passato lì sono stati commessi degli errori progettuali la tribuna ha delle problematiche importanti allora io lì se la devo dire tutta demolirei tutto e ricostruirei farei qualcosa di nuovo sulla quale stavamo anche ragionando perché intervenendo si spendono delle risorse significative ma rimane sempre quelle cose a metà e lì potrebbe esserci un'idea bella però ripeto occorrono delle risorse significative non voglio anticipare nulla perché vorrei anche parlare con i referenti del governo perché proprio per il potenziale che ha per la federazione atletica potrebbe diventare un punto di riferimento c'è una gestione adesso devo dire una buona che ha anche delle potenzialità si potrebbe realizzare una struttura che possa attrarre non soltanto per i locali sono quelle cose un po' complesse un po' come abbiamo fatto con la piscina come vorremmo fare con il palazzo dello sport sulla quale non è che l'abbiamo accantonato ci stiamo però nell'immediato entro il fine mese presenteremo la richiesta il progetto per la riqualificazione della pista ci sono dei nastri bianchi e rossi che impediscono l'accesso ad alcune tombe al cimitero di Fano verranno tolte per i primi di novembre di solito voi nel mese di ottobre fate un po' di manutenzione quindi per curare i cimiteri su questo non sono aggiornatissimo adesso anzi quindi magari nelle prossime settimane poi cerchiamo di dare informazioni anche su quello che avverrà in cimitero in vista della festa di ogni santi e dei morti allora abbiamo avevamo un'altra telefonata per lei ma vediamo vediamo dopo andiamo avanti con i messaggi la strada comunale Ponte Alto che è impraticabile riducete i megalotti terrieri e sbloccati i lavori non ne possiamo più di pagare i lotti che sono enormi gli imprenditori non sanno cosa fare non sappiamo bene a che cosa si riferiscono io dico io sono quelli che pagano l'IMU sulle aree edificabili che non hanno alcuna prospettiva dono informazione siccome stiamo rivedendo il piano regolatore questa è l'occasione per chi vuole uscire trasformare quell'area da edificabile ad altra destinazione è il momento di farlo in modo tale ma ci sono già arrivate tante che sono tutte in fase di valutazione ci dicono in tanti delle illuminazioni sindaco tra Rosciano Cucurano Carrara in tantissimi saranno almeno 5-6 messaggi però come diceva lei di competenza della provincia le state provinciale non sono nostre le altre noi anche Rosciano abbiamo illuminato il tratto che era pericoloso che portava da Rosciano da Sant'Orso a Bellocchi è stato fatto un bel lavoro anche perché l'estate in particolare veniva molto utilizzato in bicicletta abbiamo esteso avete visto abbiamo riqualificato e cambiato molti punti luce dal centro città nel lungomare in diverse vie continueremo a farlo adesso partirà un nuovo progetto sulle strade principali in più abbiamo anche esteso alcune sono state estese come quella a cui facevo riferimento di Rosciano sulla TOSAP invece sindaco quindi tasta sul suolo pubblico ci sono anche in questo caso continuerete con le agevolazioni continuiamo fino a fine anno con i dpcm finché c'è stato l'emergenza queste cose vengono procrastinate quindi andrete anche su questo vorrei dire una cosa noi abbiamo fatto questa scelta di Fano in plein air città all'aperto che ho chiamato bar ristorante teatro a cielo aperto reputo che sia stato un grande successo sia stato molto apprezzato al saldilà della discussione piazza Andrea Costa ma sia sul lungomare pensate alla passeggiata del Lido quell'angolo che si è creato dove tra il faro il chiosco l'ufficio turismo lì dove c'è la curva al porto ma il centro storico quindi potrei fare un lungo elenco ha visto un grande apprezzamento una grande partecipazione e vorrei anche sottolineare ovviamente l'erba del vicino è sempre più bella è sempre più verde però lo notavamo che ne parliamo anche con alcuni amici anche quest'estate ma anche in questi giorni se noi andiamo alle sere per la città vediamo c'è sempre una presenza di persone in altre città negli stessi momenti se non ci sono eventi organizzati non c'è la stessa partecipazione quindi significa che effettivamente questa cosa è stata apprezzata ha dato valore al nostro centro storico e anche alcune riqualificazioni che abbiamo fatto hanno portato un vantaggio perché non nascondiamo che le scelte che abbiamo fatto da via Garibaldi al Pincio ma quella che sarà della Darsena Borghese il lavoro che faremo alla Sant'Arcangelo vanno a riqualificare a rendere la città sempre più bella e più attrattiva e la gente aumenta lo abbiamo visto adesso perché poi noi viaggiamo con le nostre sensazioni che non sempre rispecchiano la realtà poi il giudizio che dà a chi vive è sempre più severo come giusto che sia rispetto anche a chi arriva però il giudizio sulla nostra città l'abbiamo visto anche sabato dalle indagini che ci sono state fatte sul giudizio della gente che viene a Fano è un giudizio molto alto è positivo illuminazione ciclabile Fano Fenile sì è un'altra di quella che dobbiamo fare il parcheggio ci ha risposto la signora che ci segnalava il parcheggio per i disabili dice che ce n'era già uno in via Reno però con la nuova asfaltatura ovviamente è andato via e quindi deve essere ripristinato sì penso che me l'abbia anche detto adesso francamente strade Ponte Sasso chiedono anche quanto tempo ancora bisognerà attendere per vedere sistemato il tratto di strada compreso tra la chiesa dei Tre Ponti e la cooperativa perché quando piove si allaga sempre tutto e quando riapriranno i due sottopassi in via Battistoni tra l'altro abbiamo parlato anche di quello di via Fanella insomma anche lì i due battistoni sono quelli i due sottopassi nuovi che stanno facendo mi immagino beh quelli l'anno prossimo non so qual è la via in questo caso e chiedono ancora le telecamere in via rimembranza e zona Z a Tl anche per le telecamere ne sono state installate diverse in questi ultimi anni abbiamo fatto un progetto importante in collaborazione con le forze dell'ordine l'abbiamo condiviso e l'obiettivo primo è la sicurezza della città quindi l'obiettivo è quello di controllare tutti gli ingressi e le uscite della città perché quelle sono deterrenti ma sono molto utili anche per le attività di indagine questo è stato fatto un lavoro importante non è ancora finito quello per lo ZTL è ovviamente ha sempre una funzionalità perché riprendono i passaggi delle auto dei mezzi in quelle strade ma hanno una funzione diversa rispetto a quelle che abbiamo installato nei punti di ingresso e di uscita della città le vecchie fontanelle in via Fanella è possibile ristrutturare la zona e renderle anche nuovamente funzionali ci sono dei progetti per questo caso fanno due via Fanella oppure sulle fontanelle adesso tutto è possibile però ovviamente anche qui è una scelta anche di priorità e di intervento non riusciamo a arrivare dappertutto rotatori il sindaco parla spesso di rotatori e si fanno l'erba alta eccetera ma quando effettivamente verranno riqualificate? Sì su questo adesso abbiamo fatto anche un bando per affidarlo a privati che volevano essere copartecipati a realizzare e a dare visibilità anche alle proprie rappresentanze se così le possiamo chiamare perché non possiamo usare la parola pubblicità nelle rotatorie per venirci in conto perché fra l'altro adesso se ne aggiungono 12 a quelle esistenti però l'obiettivo è quello di riprendere questo percorso siccome ci sono state diverse richieste lo faremo e lo rientreremo in quel discorso del decoro le vado a leggere gli ultimi messaggi velocemente perché siamo in chiusura al pincio negli orari di punta all'uscita delle scuole nessuno si preoccupa di controllare la viabilità dei mezzi in entrate in uscita che non hanno nemmeno misure del codice della strada per poter transitare quindi questo potrebbe essere un problema anche per gli studenti ancora i megalotti ne abbiamo già parlato prima ripristino della pavimentazione ponte pedonale sul torrente Arzilla tra via Carmine e via Arzilla oltre all'illuminazione anche in questo caso lì non so se sarà nel progetto della pista ciclave della Arzilla pista ciclave della Gimarra per andare in città sulla nazionale ancora abbiamo risposto prima purtroppo non è fattibile perché spiegava il sindaco abbiamo quella sul lungomare e poi i giardini delle scuole statali dell'infanzia non sono state attrezzate per poter essere utilizzati come previste sulle linee guida anti-covid quindi potature divisori ecco in questo caso poi scuole dell'infanzia quindi comunali ci sono delle disposizioni abbiamo fatto un lavoro in quasi tutte le scuole adesso non so a cosa si riferisca in particolare però su questo siamo addirittura abbiamo aperto una settimana prima degli altri devo ringraziare anche tutta la struttura l'assessore Mascherini che ha fatto veramente un buon lavoro non ci siamo trovati impreparati e adesso questo nello specifico mi sfugge ci dicono anche alcune scuole statali in questo caso ultimissimi messaggi lo stralcio del parco urbano secondo e terzo il secondo è il secondo che sono due secondo punto A secondo punto B lo dovremmo aver già affidato se non sbaglio perché avevamo previsto mancavano non tanto la somma ma la destinazione perché noi dobbiamo sempre fare riferimento ai processi amministrativi non è come un privato dice c'è gli ho vai e fallo dobbiamo fare sempre questi passaggi tra approvazioni e varie azioni di bilancio però penso ci stiano già lavorando chiedono anche di considerare che significa questo secondo stralcio riguarda la struttura l'edificio l'ex grizzly tanto per così lo riconoscono tutti e tutta quell'area lì che fa anche da cerniera con il vallato e con il parco che si unisce a quella parte realizzata destinata ai bambini e chiedono anche un po' di considerazione per Torrette e Ponte Sasso esattamente come il centro città si hanno perfettamente ragione però adesso per le regionali quando ci sono le elezioni non possiamo muoverci ci dicono che facciamo campagna elettorale non sono andato da nessuna parte riprenderò tutte le assemblee nei quartieri e farò un elenco anche delle cose che abbiamo fatto in questi anni perché non è vero che non c'è stata un'attenzione le cose sono state diverse poi è chiaro una volta superato un problema si guarda quello successivo però andrò con un piano Fano Sud così li possiamo chiamare che prevede tutta una serie di interventi di esigenze che ci sono che sono tutte conosciute con un piano come feci all'inizio cinque anni fa proprio a cavallo dal primo quando si furono quei problemi di esondazione feci un'assemblea pubblica e prendemmo degli impegni dicendo faremo questo 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 quindi farà di nuovo questa azione nei prossimi anni fa quando si deve riconoscere una cosa quando annuncio che faremo determinati percorsi al 99% li ho sempre mantenuti poi magari nelle tempistiche no perché le tempistiche non dipendono solo da me quando io comunico una data comunico un percorso è perché sono le indicazioni che mi arrivano dai tecnici giustamente proprio in una di queste trasmissioni di Primo Cittadino un telespettatore che ha chiamato mi disse sindaco le do un suggerimento sia prudente quando dà delle date perché poi si rischia di fare brutte figure e ha perfettamente ragione perché si ricordano non è quello che fa la vera differenza però la gente quando sente un annuncio poi si crea l'aspettativa e se non si mantiene quella scadenza c'è una delusione ecco allora meglio adesso sto imparando preferisco dire sempre allungare i tempi in modo tale che se finiamo prima faccio più bella figura diciamo sono stati più bravi Via Girolamo da Fano è prevista una ciclabile? Via Girolamo da Fano adesso c'è devo dire l'assessore Tonelli ha fatto tutto il percorso anche verso per tutti adesso finiremo anche con deve essere appaltato anche quel lavoro lì purtroppo sono talmente tanti i lavori che abbiamo in cantiere che prevede tutta la bici pedonal adesso non ricordo la bici comincia ad essere un po' stanco non mi stucco esatto non mi veniva la parola che va collega tutto Sant'Orso fino a raggiungere il centro storico faremo tutte le varie linee una alla volta una all'anno segnalano anche delle luci spende in fondo al Via L'Italia quindi nella zona dell'asilo luci spende anche lì Sindaco abbiamo tanti messaggi però io purtroppo non riesco a leggerli tutti mi scuso anche dobbiamo chiudere qua la nostra diretta fra poco andrà in onda al telegiornale di mezzasera e poi domani mattina alle 7 la rassegna stampa grazie per essere stato con noi ci ritroviamo fra un mese circa negli studi di Fano TV grazie grazie a tutti i telespettatori perché quando arrivano tante domande significa che la trasmissione svolge un servizio per la città e poi c'è anche si cercano di strappare delle promesse è anche un atteggiamento di fiducia e di attenzione perché se non ci fosse fiducia non ci sarebbero neanche le domande le segnalazioni grazie al Sindaco di Fano Massimo Seri grazie anche a tutti voi per averci seguito buona serata grazie a tutti i nostri spettatori